Amici di Marcosbox, benvenuti in questa 48esima puntata del podcast di Marcosbox. Prima puntata del 2020, siete pronti, siete pimpanti, avete fatto delle belle vacanze, vi siete ricaricati, spero di sì. Io purtroppo invece queste vacanze non mi sono potuto ricaricare a dovere, quindi sto a un altro punto da capo. Comunque ho fatto la solita lista di buoni propositi per quest'anno, che si va a sommare i buoni propositi degli anni passati, perché devo ancora realizzare quelli degli anni 90, va bene, ma non divaghiamo, pensiamo alle notizie del mondo dell'informatica e del software libero open source. Iniziamo la settimana parlando di un progetto, il Power Progress Community, che ha lanciato un progetto due anni fa per realizzare un notebook Linux Power PC Open Hardware. Open Hardware significa che le specifiche hardware sono disponibili e replicabili da tutti quanti, è una bella iniziativa. Vi invito a leggere il vecchio artico pubblicato due anni fa. Che succede? Succede che adesso, a seguito della prima raccolta fondi che è servita per pagare a Cube per la progettazione degli schemi elettrici, adesso si è entrata nella seconda fase di questo progetto, con una nuova raccolta fondi, destinata questa volta per raccogliere soldi per la progettazione del PCB della scheda madre, cioè il circuito stampato. L'obiettivo è quello di finanziare con 24 mila euro, perché questa è la cifra che il Power Progress Community si è data di budget, si è fissata, serve per finanziare la fase di progettazione del circuito stampato dei portatiche open hardware con architettura PowerPC. Ad oggi sono stati raccolti più di 5.400 euro, quindi si è superato abbondatamente il 20% di quello che serve per portare avanti il progetto. Il circuito stampato in qualità di produzione si baserà sugli schemi elettrici pubblici emersi dalla prima campagna di donazione. Il risultato finale dovrebbe essere pronto per la produzione e dovrebbe consentire a qualsiasi azienda di produrli. Per raggiungere questo obiettivo verranno realizzati 5 prototipi che saranno messi alla prova per testarne tutte le funzionalità per vedere che tutto funzioni correttamente. La progettazione sarà eseguita da un'azienda italiana, Acube, che è la stessa che ha fatto il primo step, che ha collaborato per la realizzazione del primo step e ovviamente tutto sarà con filosofia open hardware, tutti quanti gli schemi verranno resi pubblici grazie appunto ad un accordo che è stato fatto tra Power Progress Community e Acube Systems. Gli step previsti appunto quindi saranno per la fase iniziale che è la realizzazione del circuito stampato, sono 19.000 euro per il progetto, poi ci sarà un altro 5.000 euro per la simulazione del bus. Ci sarà poi la produzione e consegna di 5 prototipi funzionanti, prove hardware e poi la certificazione affinché possa essere compatibile con la normativa. Le specifiche attuali del Power PC le trovate sul blog e dove trovate anche le informazioni dettagliate sul progetto, su dove donare e come partecipare anche in altre maniere. Vi invito a leggere, vi invito a approfondire la filosofia che c'è dietro e non soffermarvi soltanto sul fatto che dici ma può essere un progetto diciamo così buttato così, magari alcuni potrebbero obiettare sì sono specifiche un po' obsolete. Andate avanti, cercate di approfondire meglio la filosofia del progetto e poi documentatevi, come dico sempre. Meglio metterci la testa, leggere e farvi una propria opinione, non soffermatevi subito al titolino. Restando in ambito di computer portatili, questa settimana Dell ha annunciato l'edizione 2020 del suo Dell XPS 13 Developer Edition. Sapete bene, Dell produce l'edizione Developer Edition del suo XPS 13 ogni anno alla giornata, la Developer Edition ha Ubuntu LTS preinstallato nello specifico, quindi la 18.04 LTS che è il GutiMile LTS di casa Canonical. Nuovo hardware per questo Dell XPS 13 edizione 2020 e gradita New Entry e il supporto per i lettori di impronte digitali. Il supporto alle impronte digitali su Ubuntu sarà disponibile dopo l'avvio e verrà aggiunto tramite un aggiornamento di sistema, quindi un aggiornamento OTA che il driver verrà aggiunto tramite un aggiornamento OTA. Questo nuovo Dell XPS 13 Developer Edition edizione 2020 si basa su processori Intel di decima generazione con processo produttivo a 10 nanometri, ovviamente Ubuntu 18.04 LTS, nella sua ultima point release, quindi la .3, supporto per i impronte digitali che vi ho detto prima. Abbiamo la possibilità di avere configurazioni fino a 32 GB di memoria RAM, il modulo wireless è molto veloce ed è basato su il chipset Intel Wi-Fi 6, supporto agli SSD PCI Express fino a 2 TB di SPRI fino al 4K Ultra HD+, quindi 3480 x 2400. Il prezzo del modello Entry Level, che è equipaggiato con un i5 8 GB RAM ed è un SSD da 256 di SPRI Full HD e ovviamente Ubuntu, sarà di circa 1200 dollari, che al cambio attuale sono 1.075€. Ovviamente non sarà affatto una conversione 1 a 1 del tasso di cambio, vedremo poi successivamente quale sarà il prezzo europeo. La disponibilità è data a partire da febbraio 2020 in Stati Uniti, Canada ed Europa, quindi non appena ci saranno informazioni, sarà pubblicato sul sito di Dell, troverete un articolo con il prezzo aggiornato, il prezzo effettivo per versione europea. Se volete farmi un regalo, sapete che cosa comprarmi a prima di essere avvicina. Restiamo in ambito Ubuntu, questa settimana ho pubblicato una piccola guida su GS Connect. Che cos'è GS Connect? Gli utenti KDE di Sivu conosceranno KDE Connect, che praticamente è un tool, uno strumento che serve per poter interagire tramite smartphone e viceversa con KDE Plasma. C'è un porting di questa funzionalità realizzata in JavaScript e funzionante con GNOME Shell chiamato GS Connect. L'integrazione è praticamente, funziona al medesimo modo, avete l'integrazione con Nautilus e con Chrome Firefox che ci consente, abbiamo la possibilità diciamo così di condividere tra i dispositivi le notifiche, i file, funzionalità di messaggistica, controllo remoto ad esempio del lettore multimediale e quant'altro. Quindi è in tutto e per tutto uguale a KDE Connect, solo che lo installiamo su una distro con GNOME Shell. Su Marcosbox ho pubblicato una guida su come installare GS Connect su Ubuntu, nella fattispecie Ubuntu 19.10. Andate a vedere installatelo, provatela questa funzionalità perché è davvero molto interessante e come è stato detto da alcuni nei commenti, questa dovrebbe essere una funzionalità preinstallata su tutti quanti le distro, quindi al giorno d'oggi tutti quanti abbiamo la necessità di interagire con il nostro smartphone tramite computer, quindi crea un ecosistema alla Mac OS perché Apple fa già una cosa del genere. Trovate poi la descrizione su Marcosbox e trovate tutta la guida. Restiamo in ambito distribuzioni Linux parlando di Manjaro, Manjaro che ne ha fatto un'altra delle sue. Perché dico ne ha fatto un'altra delle sue? Sapete bene che Manjaro offre diverse spin, diverse release basate sui vari index open environment e quant'altro. Nella giornata di due giorni fa, il 5 gennaio, è stata data l'annuncio di una collaborazione tra i team di Manjaro e quello di Nitrux. Che cos'è Nitrux? È una distribuzione basata su Ubuntu che fa uso di KDE Plasma 5 delle sue applicazioni. La particolarità della distro risiede nel fatto che offre una serie di personalizzazioni che danno alla distro uno stile alla Mac OS. Questo set di personalizzazioni si chiama NX Desktop. NX Desktop verrà sviluppato anche grazie alla collaborazione di Manjaro Linux ed è stata rilasciata una spin, una edizione di Manjaro basata su NX Desktop che potete scaricare al link che trovate su Marcosbox. È davvero interessante. Complimenti sia al team di Nitrux che al team di Manjaro che riesce a stare appresso a mille progetti alla volta. Passiamo adesso alle notizie dal mondo del software. È stata rilasciata poche ore fa la versione 72 di Firefox. Tre sono le novità chiave di questo rilascio. La prima riguarda la protezione avanzata del monitoraggio, l'Enhanced Tracking Protection, che segna una nuova tappa nella battaglia con il monitoraggio dei siti da parte di Firefox perché adesso vengono bloccati gli script di fingerprinting per impostazione predefinita per tutti gli utenti. Quindi livello massimo attualmente disponibile di protezione per tutti quanti. L'altra novità che è molto gradita a mio avviso, avete presente quei finestre di pop-up, di richieste di notifiche che si aprono adesso sui siti web, che uno dice voglio inviarti la notifica del sito, io non la voglio la notifica. Però rompono le scatole in una maniera assurda. Bene, Mozilla, Firefox, ha deciso che questi pop-up non interromperanno più la nostra navigazione. Al loro posto apparirà un fumetto nella barra degli indirizzi quando verrà mostrato, quando ci verrà richiesto dal sito, questa riattivazione di questi pop-up di richieste di notifiche. Quindi non ci sarà più quel pop-up a tutto scherzo, cioè a tutto scherzo, quella finestra che si abbassava prima, ma ci sarà soltanto questa piccola animazione quindi che non ci disturberà. Infine, cosa molto gradita è la introduzione della funzionalità di picture in picture anche per gli utenti macOS e linux. Io l'ho provata, la sto provando con piacere sulla versione per Windows, questa funzionalità, che è stata introdotta nella 71 per Windows, se non ricordo male, nella 71 stabile, e che dire, è comoda, quindi consente di mettere i picture in picture, non soltanto per YouTube, ma anche, che ne so, su Netflix o su altri siti di streaming. Quindi, davvero ottima funzionalità, e mi fa piacere che sia stata introdotta anche su Linux. Ultima notizia della settimana, non riguarda Linux, non riguarda il software libero, ma riguarda una guida che ho pubblicato per un software, rilasciato da Sojay, che è quella software house, che sviluppa software per la pubblica amministrazione, ha rilasciato la nuova versione di Pregeo, l'ho installata su una versione, su un sistema con Windows fresco di installazione, mi sono accorto che c'erano problemi, l'instaglia non partiva, non parte nemmeno l'instaglia di questa ultima versione. Su Marcosbox trovate la soluzione su come risolvere questo problema, che impedisce l'installazione di Pregeo in alcuni casi, trovate la guida, praticamente si tratta di riavviare il sistema in modalità provvisoria e installare il Pregeo in modalità provvisoria. Bene, nel frattempo non so se sentite, stanno sparando perché hanno ancora fuochi da sparare a quanto pare. Con questo concluso, lunga vita e prosperità a tutti quanti, ci riascoltiamo la prossima settimana con la prossima puntata del podcast di Marcosbox. Ciao ciao!